Nessun dorma, nessun dorma, ho pure l'occhiere la seconda A dell'istituto comprensivo della città degli scacchi mentre Giorgia si ritrae in compagnia del nonno assieme al quale riusciranno a sconfiggere il coronavirus con le bolle di sapone che intrappoleranno il covid e lo annienteranno sarebbe una gran cosa se potesse accadere questo è il lavoro di Alvise, sei anni di Bassano ecco Zoe che recita una preghierina in videoconferenza assieme alla sua maestra della scuola elementare San Giuseppe di Bassano prima di iniziare le lezioni ma prima di lasciare spazio nuovamente alla voce di Emma vi ricordo di continuare a mandare i vostri lavori ma lanciamo un messaggio anche alle nonne e ai nonni perché anche voi potete inviarci messaggi di speranza e ottimismo in questi giorni difficili da affiancare agli operati dei vostri nipotini e adesso sentiamo questo canto di vittoria all'alba vincerà, vincerà, vincerà ciao complimenti ciao ciao